ciao glitters e bentornati sul canale quest'oggi io e glitter abbiamo trovato una cosa stupenda la casetta dei unicorni guardate guardate c'è scritto magic surprise casetta unicorn si e dentro dovrebbero esserci 5 magiche sorprese ma non c'è nessun indizio su queste magiche sorprese e se uscissero delle cose bruttissime lo scopriremo solo scartando anche se adesso ho un po' paura forse c'è la fregatura ma dai non pensiamo male cogli unicorni si può sempre giocare hai ragione candy ottimismo sono sicura che usciranno delle sorprese meravigliose allora apriamo e non è picciare senza di me no non sto sbirciando ok ok adesso apro cosa vedi niente vabbè prendiamone una alla volta aspetta vado e torno mi è caduta di nuovo ho la testa troppo grande ecco perché di solito chiamiamo la camera girl per questi unboxing ci sono ci sono candy allora vediamo un po' che cos'è di cosa si tratta bacchette magiche bacchette magiche non lo so a me sembrano matite colorate vediamo sì hai ragione sono matite colorate ma non hanno niente di unicornoso beh magari servono per colorare un unicorno adesso vado io e vedo se trovo un libro da colorare vado eh vado ci vado ok a natale ho manzato troppo ok candy prendi ma che cos'è aspetta lo prendo con il mio corno ci sono ci sono ci sei ci sono tira ecco perché queste cose le fa la camera girl tira ok ci siamo candy dove sei finita? qua sotto ma che cos'è? vedo della stoffa viola vediamo un po' allora giriamo ma è un sacchetto di trolls ma cosa c'entrano i trolls con gli unicorni? cosa ci entrano? te lo dico io cosa ci entrano? cosa? assolutamente niente fammi vedere sicuramente dentro ci sarà qualcosa qualcosa di unicornoso cosa unicornosa? ehm hai trovato qualcosa candy? ah poi vedi se non la trovo aspetta di qua no di qua no di qua no ma non c'è niente è solo è solo un sacchetto ma un sacchetto per cosa ci sono? glitter questo è un enigma qualcuno sta cercando di inviarci un messaggio ehm prendi i colori e scappa col sacchetto? ma no ma no così sarebbe troppo ovvio vado a recuperare un'altra sorpresa tutto bene candy? benissimo oh aia quello si che sembra qualcosa di unicornoso ho 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 lì allora vediamo un po' qui c'è sicuramente un unicorno e glitter oh che botta era pesante hai ragione ma cosa c'è qui dentro? pupù di unicorno? non lo so non vorrei essere inopportuna ma sembra più pipì vediamo un po' slimy magic slimy non ci resta che aprirlo e provarlo dai lo slime sarà bello qui fuori dalla confezione mmm sai glitter io non so se voglio aprirlo e non voglio nemmeno dire a chi ci segue cosa cosa mi sembra ma mi sembra proprio una brutta cosa una una proprio brutta guarda candy da lì sta uscendo dello slime oh ok ok allora adesso adesso provo ad aprirlo tutto eh senza sporcarmi ok 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 ci siamo ci siamo aah c'è la volta c'è la volta c'è la c'è la c'è la c'è la busta c'è la c'è la c'è la c'è la c'è la ho detto c'è la c'è la oh candy perché non chiamiamo la camera girl no no devo farlo io ecco fatto è stato è stato davvero facilissimo allora oh che bello oh che bello sembra che qualcuno ci abbia fatto la pipì elegantissimo e poi la consistenza è davvero troppo oh no oh no glitter ah dai candy vieni fuori vieni oh no mi sto sblocando gli stimoli eh io mi sto sblocando le scarpine dai tira oh siamo salve sì però la matita è andata perduta per sempre e guarda che sia che ha lasciato sembra la pava di una lumaca beh è sempre meglio della pipì ma adesso come facciamo a toglierlo? beh è molto semplice a questo pensiamo dopo vediamo le altre surprise ecco chi arriva dunque questo sembra un brazzale si chiama trendy us ms ma chi è che oggigiorno usa gli sms? è sulle braccia per di più ma non c'entra niente con gli unicorni vabbè apriamola vediamo di che senti eh sì ok allora oh ma eh manca la R è un nome Omar ma no candy penso che sia amo ah l'amo quello che serve per pescare perché qualcuno dovrebbe mettere la parola amo sul braccio? ah amo forse come come voce del verbo amare ah ecco qui sono uscite le altre letterine vediamo cosa riesco a comporre allora c'è anche un 6 una L la I la D la A la O e quindi è 6 e l'ode ma candy non esiste 6 e l'ode esiste solo il 10 e l'ode o il 110 e l'ode ah non esiste il 6 con la l'ode va bene allora vediamo un po' con queste letterine cosa posso fare no mi mancano due n oh glitter ho fatto una parola per te modaiola cioè una persona che segue la moda che romantica candy non esce proprio nessuna parola carina aspetta adesso mi impegno adesso mi impegno oh ho scritto Adamo e Eli era Adamo ed Eva ah ecco cosa non tornava allora io sto sbagliando approccio perché questi dovrebbero essere messaggi per comunicare con i tuoi amici ok ok dai sei Elo e chi è Elo e lo chiedi a me che ne so io sono una detective ma non posso mica sapere tutto ah vado a prendere l'ultima sorpresa fa che sia qualcosa con gli unicorni fa che sia qualcosa con gli unicorni ecco filly witchy aspetta ma questi questi sono 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 dei pony perché è così difficile capire la differenza fra un pony e un unicorno voglio dire hanno il corno unicorno i pony non hanno il corno è difficile ma dai Candy vediamo la checklist magari c'è qualche unicorno nemmeno l'ombra no infatti però dai non sembrano male apriamoli oh è almeno uscita quella rosa aspetta adesso ti tiro fuori principessa eccola si chiama Miranda guardiana della luce beh si dai non c'era un unicorno però almeno è carina almeno abbiamo una sola sorpresa carina che però non è un unicorno vabbè ma è rosa ma di questo cosa ne facciamo una pozione no no lascialo lascialo lì ok beh glitters direi che questa surprise box è stata un fallimento totale e ancora non ho capito a cosa servono le matite colorate se non c'è niente da colorare e il sacchetto dei troll a cosa serve oh meno male che è uscito il pony rosa già beh speriamo comunque che questo video vi sia piaciuto glitters e se si mi raccomando mettete mi piace venite a seguirci e a dirci la vostra sulla nostra pagina instagram noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao